Zio c'è un problema No zio c'è un problema Non porti la macchina Dimmi se senti qualche rumore strano Non parte zio Prova a spingere Non va la macchina Buon day sono Giuse e benvenuti in questo nuovo video Siamo per partire Siamo per andare in vacanza Anzi in realtà siamo già arrivati Ecco la nostra destinazione Cosa ne pensi? Ci divertiremo? Secondo me si C'è il bagno? Si E allora va bene E' buono Eccolo proprio lui Incredibile Ma allora ragazzi ci siamo fermati qua a pranzo Alla bellezza delle tre messe Ci ha fatto un trabocchino Ci ha fatto un trabocchino Ha detto che lo scaldava e freddo Stiamo per partire Stiamo per andare al mare Abbiamo perso il treno E ci siamo avviati con una 600 Arriverò mai a destinazione? Io non lo conosco Qua c'è un merce nuovo L'ho trovato in bio No L'ho trovato nel primo commento Siamo pronti? Zewon te c'è un atto a bere il caffè? E' tante Il mio amico è morto Allora un minuto di silenzio per il tuo amico Come si chiamava? Non me lo ricordo È morto Allora un minuto di silenzio per non me lo ricordo Di cognome come faceva? Morto Ah morto Quanto manca al mare? Adore No ma fa troppo caldo Io devo lavarmi prima Ok Adesso sto meglio Vuoi una rinfrescata? Vuoi una rinfrescata? Non ci Oddio mi sono spruzzato da solo Lasciate già un bel mi piace In realtà noi siamo in viaggio Stiamo andando E scoprirete tra poco quando e dove Cioè quando adesso Siamo carichi? Non l'ho studiato Non lo so non te la prendere con me Vabbè allora lo dico io Andiamo? Andiamo pa fa niente Non sapevo che dovevo rimanere a casa io Scusi se sta male Scusi una domanda Mi dica mi dica Ma quando cazzo arriviamo? Eh zio minimo una settimana tutta Fra Ma è da ieri che siamo in macchina scusa? A che ora? Più o meno dai Credo Sette e ventordici Sette e ventordici arriviamo Ma sono le nove Se non ti devo dire Questo è Ma guardi io scendo alla prossima fermata Per favore fammi Fai mostra 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 dove sei venuto in vacanza Posso aprire? Prego prego No però mi è entremato forte Aspetta che accello e poi apri Sì che ho caldo Questa è la porta Una boccata d'aria Questa è la porta alla finestra Me lo devi dire però Mi devi dire le cose quando te le chiedo Perché se tu non me le dici quando te le chiedo Io mi arrabbio Perché? Basta Perché urli? Guarda avrei preferito Che viaggiassi Che Io Io Sì A parole tue A parole tue Io avrei preferito A parole tue A parole tue Io avrei preferito E dimmi però fra Io Io avrei preferito Che guidasse Il mio amico cieco Questo avrei preferito Sì sì Quello cieco senza gamba Guarda un po' Guarda un po' Dove ti sto portando in vacanza Guarda un po' Eh? Ma non c'è un cazzo qua Eh? Eh ma perché? Ma però non sei mai contento Io non so più cosa fare con te Ma dovremmo divertirci Eh perché qua non ti diverto Guarda quanto spazio c'è Ma la discoteca Guarda discoteca Guarda che l'estate Non si va in discoteca Ma perché mi hai preso Oh Ma io volevo restare con mia nonna Senti tu lo sai come ci si guida? Senza mani e senza piedi? Allora raga A parte che sembriamo delle zingari qua C'è di tutto in questa macchina Praticamente ci siamo fermati con un'autostrada Che Gabriele doveva andare in bagno E gli ho detto che tra poco lo raggiungevo In realtà non lo raggiungerò mai Perché lo aspetto E gli farò uno scherzo Farò finta che la macchina non parte Tanto lui non capisce un cazzo di macchine Continuerò ad accelerare Tenendo schiacciata la frizione Così sembra che la macchina va Ma non va Ok? E vediamo quanto regge questo scherzo Eccolo 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 Ok siamo pronti Allora zio c'è un problema Siamo? No zio c'è un problema Hai dimenticato No no scendi un attimo fra Vai un attimo a vedere davanti Perché? No non scherzare fra Non parte la macchina Non parte la macchina zio Te lo giuro Vai un attimo lì davanti Vai un attimo a vedere Dimmi dimmi se sente qua Che rumore strano Non parte zio Non parte la macchina Sto mettendo la retro Ma non va Prova a spingere Prova a spingere zio Spingi però Cos'è quella roba? Spingi Non parte Spingi Senti che io All'elementare non mi hanno spiegato Come aprire il cofano No zio no Devi spingere Devi spingere Verso di là Verso di qua zio Non va Non va la macchina zio Si sta incantando Si sta ingolfando Si sta ingolfando zio Si sta ingolfando E' una cosa positiva E' una cosa positiva E no E no Se si ingolfa Rimaniamo qua All'autogrill zio Vabbè Senti mi stai mettendo In difficoltà Non lo so Voi che chiamo La polizia No I pompieri zio Chiamami i pompieri Per favore Dai zio Dai zio Non scherzare Non parte la macchina Guarda Senti qua Prova a spingere Prova Ma scendi Apriamo il cofano Ma dai Stai schiacciando Il pulsante Sbagliato Stai schiacciando La cosa sbagliata Lì Ah te ne sei accorto Volevo farti un trabocchino Zio Però è durato Più di due minuti Ma è incredibile Quanto sei scemo Ma io non c'ho La patente per la bici Non Eh Io c'ho quella del monopattino Pensa come siamo messi Dai andiamo Raga quanto è coglione È arrivato Finalmente sono arrivato Dopo un viaggio Di esattamente nove ore E trentacinque minuti Sono arrivato Siamo arrivati Sono venuto in vacanza In Albania No io sono Tu dove sei? In Germania Ma mi fai vloggare? Non lo so Si va a mangiare Con il mio bellissimo ciuffo Oh mi fai vloggare Ma ero Te ne vai? Te ne vai? Questo no Te ne vai? Questo no Te ne vai? Questo no dai Te ne vai? Questo no Non posso Non posso Non posso Guarda che bel panorama Ovviamente mi riferisco a me Sai che fa ridere Sai che fa ridere Francesco E il nino Sbarca anche qui In realtà non siamo in Albania Ma siamo A Lido di Pomposa Non sapevo dell'esistenza Di questo posto Fino a quando non ci sono Arrivato Ciao Sto vloggando Saluta al vlog Saluta al vlog Saluta al vlog Saluta anche te Vai grande Ciao Lei è una delle fortunate Che ha acquistato il nuovo merch Ed è stata pescata Per essere videochiamata Ciao ragazzi Che grande Allora ragazzi Vi ho detto Sono qua con William E Nicola E Nicola Un saluto per il mio canale Per favore Ciao E fa caldo E fa caldo Si suda qua Si suda qua Si suda qua No zio potrei fartene una doccia prima di uscire È proprio schifo Fai Madonna Perché volevo fare Cosa vuol dire fare Palestra Allora ho detto La faccio qua Non ho capito Scusa Cosa vuol dire fare Non ho capito Ciao 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 Posso una domanda Lei ha acquistato il nuovo merchandising Spettacolo Sorry Spiritalia Lei ha acquistato il nuovo merchandising Spettacolo Le maglie Quale nuove? Quelle nuove di Giuseppe Barbuto No Devresti metterle in vendita qui Perché vanno un sacco Stanno andando di moda Grande Un saluto Da Lido di Pomposa Grande Ciao Siamo arrivati Il Lido di Pomposa Un applauso Grande Giuseppe Grazie Grande Grazie mille Allora attenzione Perché qua c'è un altro prank In azione Aspetta Ci sei? Uno Due Preso It's a prank It's a prank Volevo come al solito Mostrarvi il bel paesaggio Guardate Che bel tramonto Che bel paesaggio Ma ovviamente Anche a stavolta Mi riferivo a me Capito cosa? Sto prendendo la febbre Per colpa del tuo vlog Per colpa del mio vlog Non perché Non perché esci senza lavarti Senza farti la doccia Zozzone Hashtag 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 Zozzone Commentate tutti Hashtag Zozzone Sarà la parola di questo video Attenzione Per fare un altro prank Sto per bucare le ruote di questa bici Sto per bucare le ruote di questa bici No mi hanno beccato Prank finito male Sono pronto Ti picchio Ti vai a lavare Eh no Non t'ho colpito stavolta Sei più finta dei tiktok di quelli biondi Come è? Sì Come è? Ha colpito anche lui Questa volta non ero d'accordo Raga sono le 5.46 della mattina del 16 luglio Ovvero di oggi Come vedete stavo finendo di montare il vlog Mi sono accorto solo ora Perché non ho registrato la fine del video Quindi Il video termina qua Lasciate un bel mi piace Commentate Hashtag Fino alla fine Se l'avete visto Fino ad adesso E ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao